E tu al Pride, tu sei? Elena Nieri, ciao a tutti! Io ti conosco, come sta andando Priscilla in questa reprise dell'Expo? Guarda, Priscilla sta andando molto bene, una versione diversa, nuova, ma sempre molto apprezzata dal pubblico. Abbiamo anche un pubblico straniero, perché adesso con l'Expo c'è un po' di gente non italiana. Abbiamo i sovratitoli, quindi comunque riescono ad apprezzare lo spettacolo lo stesso. Quindi vi aspettiamo tutti a teatro. Ricordiamo che le canzoni sono lasciate in inglese, evviva! Sì, assolutamente sì, a Will Survive sopravviverò era un po' strano, no? In italiano. Faccio un saluto da Divas. Loredana Fadda, noi ci conosciamo da tanto tempo, eri un'indiana tempo fa. Ero un'indiana, ero una rocchettara, ero una regina, ero nefertari, adesso sono... Una Divas. Una Divas, un po' colorata, una portavoce di Priscilla, la regina del deserto al Manzoni. Ricordiamo le date. Ma le date a luglio, adesso mi prendi un po' impreparata. Ricordiamo chi c'è con te nel cast, le date le chiediamo a qualcun altro. Grazie. Elena Nieri, Giovanna D'Angi, Marco D'Alberti, Riccardo Sinisi, Christian Ruiz. Cioè, voglio dire, non vi basta? Massimiliano Colonna, Loredana Fadda, Giada Dauria. Giada Dauria, siamo tanti, quindi voglio dire, adesso... Mi hai fatto veramente la domanda del 9, Silvio. 9 per 9? Non lo so. Io sono una Divas. Sono Giovanna D'Angi. Ti ho vista in un altro spettacolo favoloso, adesso sei cresciuta, sei più alta? Sono cresciuta, sono cresciuta. Le date di Priscilla. Allora, le date di Priscilla, ci trovate al Trato Manzoni intanto fino al 18 di luglio, tutti i fine settimana e poi da settembre fino al 18 ottobre, eh? E noi non potremo mancare, vero? Assolutamente no, vi aspettiamo. Un saluto alla Divas? Un saluto da Divas.